La Madonna di Fatima ci ha avvertito che se l'umanità peccatrice continuerà a ribellarsi a Dio e ad offenderlo, allora Dio punirà il mondo intero. Vi sarà un grande e terribile castigo. La Madonna non l'ha detto unicamente a Fatima, ma mensì il suo avvertimento è stato ripetuto secolo dopo secolo perché vi è stato un crescendo di ribellione nei confronti di Dio nel corso dei secoli. Il grande taumaturgo belga, padre Paul de Mol, una volta disse che gli era stato rivelato da Gesù che la penitenza e la riparazione di un singolo uomo avevano impedito il castigo del mondo intero nell'anno 1888. Quindi, se si considera che la Madonna è apparsa a Fatima nel 1917 avvertendoci di un grande e terribile castigo, dato che sono quasi 100 anni da quando la Madonna ci ha lasciato quell'avvertimento, sappiamo che il castigo è ormai molto, molto vicino. L'avvertimento ci è stato dato più e più volte, così tante che l'attuale incredula generazione ritiene che queste siano ormai solo minacce vuote e che nulla starebbe per accadere. Continuiamo a fare come ci pare e non ascoltate i fanatici religiosi che vi dicono il contrario. Così, quando cerchiamo di diffondere il messaggio della Madonna di Fatima, parlando del fatto che Dio punirà il mondo per i suoi peccati, che Dio sta per castigare il mondo intero in un modo senza precedenti, un castigo che sarà peggiore del diluvio universale, spesso ci sentiamo rispondere, ma perché? Perché Dio dovrebbe fare una cosa così terribile? Una domanda del genere denota insipienza, una parola che deriva dal latino e che indica l'assoluta inconsapevolezza che è conseguenza della follia, la stoltezza che deriva dal peccato dell'infedeltà. Sant'Omaso d'Aquino ne parla a lungo di questo peccato nella sezione dedicata alla teologia morale della sua Somma Teologica. Il più grande di tutti i peccati, utrum peccatum infelidatis infelidatis, etum maximum omnium peccatorum. Il peccato di infedeltà è dunque il peggiore di tutti. Sant'Omaso spiega che l'odio di Dio è il più grande dei peccati per via dei suoi effetti, delle sue conseguenze. Esso è a tutti gli effetti il peccato più grave di tutti. L'infedeltà infatti è il risultato diretto della ribellione contro Dio. esso costituisce il rifiuto di Dio, uno schiaffo in faccia a Dio quando Egli ci parla, una nostra risposta a Dio che suona come non voglio ascoltarti. Questa è la ribellione finale contro Dio a negare la sua rivelazione e la sua stessa esistenza. Ma perché Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza? Noi siamo fatti per Dio. Quindi anche coloro che si ribellano a Dio e si rifiutano di ascoltarlo, o che addirittura negano la sua esistenza, anche costoro nella loro anima non sono indifferenti a Dio. Essi sono pieni di risentimento. Gli si oppongono, fanno guerra a Dio contro questo Dio in cui essi hanno deciso di non credere. Così è scritto nelle Sacre Scritture. Perché le nazioni si ribellano ed i loro popoli cadono nella follia più totale? La risposta ce la fornisce è la Bibbia, perché essi combattono contro l'agnello. Il figlio unigenito di Dio Padre Onnipotente, questo ci porta direttamente al cuore del messaggio di Fatima e soprattutto del segreto di Fatima. Credo vi sia stato un momento, nel 1981, quando l'allora vescovo di Fatima, Leiria Fatima, Alberto Cosme do Amaral, parlando del terzo segreto, disse che il messaggio di Fatima riguardava la nostra fede, più specificatamente la perdita della fede, addirittura la perdita della fede in interi continenti. Il cardinale Ratzinger nel 1984 parlò del segreto di Fatima dicendo, sì, l'ho letto, riguarda i pericoli che incombono sulla vita e la fede del cristiano e dunque del mondo. Ora, la fede è la prima cosa che ci unisce a Dio. Senza fede è impossibile piacere a Dio e questo è ciò che San Paolo ci insegna nelle Sacre Scritture. La nostra religione si basa sulla fede, sulla professione di fede in tutto ciò che Dio ci ha rivelato. In quel che Dio ha rivelato nelle Sacre Scritture e nella Sacra Tradizione, rivelata per mezzo dei profeti, degli apostoli, di nostro Signore Gesù Cristo, così come essa ci viene tramandata dal Magistero della Chiesa. In una formulazione molto ben articolata a Sant'Atanasio ne parla come la fede è racchiusa dall'insegnamento e dalla tradizione della Chiesa conferita dal Signore e proclamata dagli apostoli. Lo ripeto, l'insegnamento e le tradizioni della Chiesa Cattolica che il Signore ha conferito e gli apostoli hanno proclamato e i sacerdoti continuano a difendere. Questa è la fede, il corpo dottrinale che risponde a qualsiasi domanda. In cosa devo credere per essere salvato? Che cosa devo fare per essere salvato? Questo corpo dottrinale costituisce il deposito della rivelazione che Dio ha donato all'umanità per la nostra stessa salvezza e nel quale dobbiamo credere per poterci salvare. Tutto ciò in cui dobbiamo credere tutti, nessuno escluso, per poterci salvare è stato rivelato da Dio. Questo è ciò che noi professiamo con la nostra fede. È la fede ad unirci a Dio perché Dio è la verità primaria. Egli è verità infinita ed eterna, la sostanza di tutto ciò in cui speriamo. Egli è la bontà increata e sorpassa tutto ciò che il cuore dell'uomo potrà mai desiderare. Dio è quindi l'oggetto della nostra fede, della nostra speranza e del nostro amore. La bontà di Dio supera tutto ciò che può essere concepito dal cuore dell'uomo e tutto ciò a cui l'uomo può aspirare. Quindi è chiaro dalla natura stessa di Dio e dalla rivelazione che può esservi un'unica vera fede nell'unica vera verità infinita ed eterna che è Dio stesso. E questo è proprio ciò che ci unisce a Dio prima di qualsiasi altra considerazione ed è alla base della nostra religione. Senza fede non vi è vera religione. Senza questa verità elementare rivelata da Dio, ovvero Dio stesso, non può esistere la nostra religione ma soltanto vuote menzogne. Non v'è nulla oltre la fede e la religione cattolica se non false credenze e superstizioni. Quindi quando si parla del segreto di Fatima e del messaggio di Fatima ci si riferisce principalmente alla fede in contrapposizione a ciò che si oppone ad essa, ovvero il suo opposto, cioè la mancanza di fede, l'assenza di fede. Ecco, questa assenza di fede è infedeltà. Il massimo, il più grave di tutti i peccati, l'infedeltà. E questo è ciò di cui parla il segreto di Fatima nella sua sostanza del peccato di infedeltà. Il frutto della ribellione dell'umanità peccatrice contro Dio, della sua ribellione contro la verità eterna, il frutto di questa infedeltà è l'apostasia. Apostasia è la parola usata da San Paolo nella sua lettera ai tessalonicesi. La grande apostasia di cui parla l'apostolo Paolo è l'apostasia dalla fede, cioè l'allontanamento da Dio. Quindi, se vogliamo cominciare a capire il motivo per cui Dio desidera punire il mondo, questo accade perché Dio ha creato il mondo per se stesso. Egli è il creatore. Quante volte leggiamo nella Bibbia di chi si dimentica e volta le spalle al suo creatore. La ribellione nei confronti di Dio è il principio alla base del massiccio fenomeno globale che possiamo definire apostasia, ed è questo ciò a cui si riferiva il vescovo Cosmedo Amaral quando parlava della perdita di fede in interi continenti. Il mondo in cui viviamo si è ormai allontanato da Dio, ribellandosi contro il suo creatore e ha quindi commesso il peccato più grave di tutti. Un peccato che provoca l'ira del Signore e che è quindi rivolta verso il mondo intero. Il Dio della bontà, della misericordia, della grazia infinite, colui che ha concesso la sua bontà divina per tutto il mondo con tutti i suoi vantaggi e benedizioni, ha ricevuto in cambio indifferenza e peccato, anzi il peggiore tra tutti i peccati, l'infedeltà e quindi l'apostasia. Vi sono alcuni particolari nel segreto di Fatima che delineano come quando avverrà questa apostasia. Lo so, è un qualcosa di così sconcertante, di così inquietante per un'anima cattolica che è difficile da accettare e questo è certo anche per quelli di noi che hanno potuto conoscere, pur se di seconda o terza mano, i contenuti del terzo segreto. Ma che dire della stessa Suor Lucia che dovette metterlo per iscritto? Ricordiamoci che non aveva nemmeno il coraggio di scriverlo. Ecco quanto può essere sgradevole. Il segreto di Fatima ci dice che l'apostasia che avrà luogo nella nostra epoca ha un pensiero così sgradevole che Giovanni XXIII, in modo dopo aver letto il terzo segreto, lo so da fonti abbastanza certe, dicevo quando lesse il segreto ne rimase così sconvolto, quasi da svenire. Diventò pallido e perse quasi conoscenza. Il testo in portoghese era abbastanza simile a quello italiano, tanto da poterlo capire anche senza una traduzione, ma Monsignor Tavares glielo tradusse accuratamente in italiano, in modo da poterlo leggere più facilmente. E la dura espressione del suo volto rimase identica anche dopo averlo letto nella sua lingua. Giovanni Paolo II, dopo essere stato eletto Papa, vuole subito leggere il segreto. Lo lesse nell'originale portoghese e poiché conosceva diverse lingue e non ebbe difficoltà a comprenderne il testo. Ovviamente lesse anche la traduzione di Monsignor Tavares. C'era una frase piuttosto difficile, anzi sgradevole per un cattolico, che Giovanni Paolo II fece ritradurre da un vescovo nativo della zona in cui avevano vissuti i fanciulli di Fatima. Questa persona era stata vescova ausiliare di San Paolo in Brasile, ma era originario del Portogallo. E di nuovo lo stesso risultato. In quel testo c'era un'espressione molto forte e difficile da ingoiare per un'anima cattolica. Facciamocela alla domanda. Cosa c'era scritto di così difficile da accettare, visto che la Madonna di Fatima aveva comunque compiuto il grande miracolo del sole, proprio affinché tutti potessero credere. Lo aveva promesso quel miracolo proprio il giorno in cui rivelò il segreto a Lucia, il 13 luglio 1917, quindi con tre mesi di anticipo. Eppure, dopo che Lucia mise per iscritto il segreto all'inizio degli anni 40, quei papi che lo lessero rimassero scioccati dai suoi contenuti e tutti i papi che si sono succeduti sin dall'ora hanno avuto così paura del segreto da rifiutarsi addirittura di pubblicarlo. Io ritengo che, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II, vi sia stata una tendenza a generalizzare troppo certi principi teologici, fino al punto di trascurare ciò che è la semplice e chiara rivelazione delle Sacre Scritture. Specialmente nella Chiesa postconciliare esiste una pletola di teologi da strapazzo che vi diranno che, partendo dal principio di base di indefittibilità della Chiesa Cattolica e che il papato è un'istituzione permanente istituita da Gesù Cristo è stato definito dalla Chiesa, che vi sarà un continuo susseguirsi di papi fino alla fine del mondo, quando nostro Signore Gesù Cristo verrà a giudicare i vivi e i morti. Vi diranno inoltre che la visibilità della Chiesa si incentra e dipende da questa successione di pontefici romani, cioè di persone che occupano la sede di Pietro. Ora, nostro Signore Gesù Cristo ha promesso a San Pietro che la sua fede non mancherà, perché la sua fede non può fallire, e che le porte degli inferi non prevarranno contro la Chiesa. Nostro Signore ha promesso che la sua fede non mancherà mai e che il Papa ha il dovere di confermare i suoi fratelli. Vi è tuttavia la tendenza a semplificare eccessivamente e a generalizzare troppo la spiegazione della natura di questa indefettibilità, al punto da rasentare addirittura la negazione della realtà storica di papi che sono effettivamente caduti personalmente in eresia. Papa Adriano VI durante un suo discorso parlò proprio di papi che erano caduti nell'eresia, affermando che molti papi in passati sono stati eretici. Forse è un po' un'esagerazione dire molti papi, ma sicuramente qualcuno, in particolare sicuramente Papa Giovanni XXII. Forse il caso di Papa eretico più studiato nella Chiesa. Tuttavia i fanatici della Chiesa conciliare vi diranno che quel punto dottrinale di cui parlò Giovanni XXII all'epoca non era ancora stato definito solennemente, ma si tratta di un errore, anzi di una falsa obiezione per essere più precisi. Non è nemmeno un argomento di per sé, è solo un'obiezione se consideriamo che l'Inquisizione condannò spesso molte persone alla pena massima per eresia, non su punti dottrinali già solennemente definiti, ma su quelli che possiamo definire l'insegnamento del magistero universale ed ordinario della Chiesa. Anche punti che non sono stati necessariamente definiti in modo solenne. L'Inquisizione poteva giudicarti i colpevoli di eresia anche se violavi o negavi un punto dottrinale o un articolo di fede definito dal magistero universale ed ordinario della Chiesa e non necessariamente già definiti in modo solenne da un concilio o papa che vi si fosse espresso ex-catedra. Quindi la decisione di definire eretica la tesi di Giovanni XXII rigovardo alla visione beatifica, rientrava certamente nei parametri della Chiesa. Eppure parliamo di un papa e la Chiesa lo aveva sempre considerato come un papa valido, perché un papa cada nell'infedeltà, sto parlando adesso della dottrina insegnata da Papa Innocenzo III nella sua carta Omelia, la potete trovare su internet, dove parla del papa che non può essere giudicato da nessuno se non da Dio. Ecco, se però un papa dovesse cadere o perdersi nell'eresia, egli potrebbe essere giudicato dagli uomini, o meglio, come dice Innocenzo III, egli sarebbe già stato giudicato per il fatto stesso, perché il non credente è già giudicato. Qui Innocenzo III cita San Paolo, ma da un punto di vista teologico il suo insegnamento è solido. Se un papa dovesse mostrarsi non credente, cioè se dovesse abbandonarsi all'eresia, allora egli potrebbe essere giudicato da altri uomini. Così Innocenzo III afferma che un papa del genere deve essere gettato via e calpestato dagli uomini. Queste furono le sue parole. Ora, dobbiamo comprendere questo insegnamento facendo molta attenzione. In modo analitico e da un punto di vista teologico perché la tentazione di un'interpretazione semplificata e fondamentalista di queste parole condurrebbe al sedevacantismo che ha prodotto i frutti più amari nella Chiesa di oggi, in particolare negli ultimi 50 anni. La chiave per capire che cosa intendeva dire Innocenzo III, quando parla del non credente che è già giudicato, sta nel comprendere il peccato di infedeltà. Colui che lo commette è quello che deve essere gettato via e calpestato dagli uomini. È colui che va contro Dio, che si ribella a Dio, che è assolutamente senza fede, e quindi un non credente. Ora, questo non può essere dichiaratamente applicato ai papi successivi al Concilio Vaticano II, Papa Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Nelle loro parole, nella loro vita, proprio come nel caso di Giovanni XXII, costorano professato dottrine eretiche, questo è indubbio, ma non abbiamo elementi di prova assoluti che ci indichino, al di là di qualsiasi dubbio, che questi uomini siano stati non credenti. Al contrario, quel che sappiamo di loro, ci dice l'opposto, e pertanto rientrano nella categoria di quei papi che Papa Adriano VI aveva indicato come eretici, ma comunque papi. Perché possono essere considerati eretici, ma essere ancora papi? Perché non erano infedeli, non erano cioè caduti nel peccato di infedeltà. Si sa, è rare umano, gli uomini sono fallibili, possiamo tutti fare un errore, soprattutto in una disciplina intellettuale così difficile, complessa e astrusa come la teologia. Si può tranquillamente commettere errori, anche tra i santi troviamo a volte pareri errati, eppure erano uomini che credevano in Dio e professavano la vera fede. Avevano cercato di spiegare e nella loro spiegazione talvolta sono andati fuori strada. Questo non significa che fossero infedeli. Sant'Alfonso di Liguori spiega che vi è una distinzione nell'eresia. Facciamo un esempio. Se per spiegare la dottrina della Trinità facciamo trapelare l'idea che Dio Figlio è di minore dignità e maestà di Dio Padre, questo costituirebbe l'eresia di subordinazionismo. Troviamo un errore simile anche nel pensiero di San Giustino Martire, ad esempio, ma è nulla in confronto al grande eretico Ario, colui che affermava che Dio Figlio è una creatura del Padre. Qui possiamo vedere l'infedeltà all'opera, come se al Figlio si potessero attribuire tutti gli attributi divini tranne la divinità. Significa negare la parola eterna del Padre. Ecco la portata degli insegnamenti perversi dell'eresia Arcario. Ecco la differenza. Un santo può anche sbagliare nell'esprimere le sue opinioni, nel formulare la sua comprensione della dottrina, ma l'eretico è colui che nega completamente quella dottrina. Abbiamo la rivelazione del terzo segreto, fatta dalla Madonna di Fatima in merito ad un Papa che sarebbe caduto sotto il potere del demonio. Un Papa infedele, quindi non un vero Papa. Un uomo che sembrerà Papa, ma non lo sarà. Tuttavia ad un gran numero di cattolici scarsamente istruiti, egli parrà essere davvero il pontefice di Santa Romana Chiesa e questo li porterà fuori strada. Li spingerà a seguire gli insegnamenti e le raccomandazioni di questo Papa infedele. Questo è l'inganno di cui parlano San Paolo e il nostro Signore Gesù Cristo quando quest'ultimo disse che sarebbe giunto un momento in cui anche gli eletti sarebbero stati ingannati, se possibile. Ciò significa che dovrà essere in atto un vero e proprio tentativo di contraffazione, una Chiesa contraffatta sotto un Papa contraffatto. Come facciamo a sapere che il terzo segreto di Fatima rivela tutto ciò? Beh, sono tanti coloro che hanno avuto modo di leggere il testo del segreto e che hanno confermato questa tesi. Il cardinale Mario Luigi Ciappi, nella sua famosa lettera al professor Baumgartner di Salisburgo, disse che la grande apostasia nella Chiesa avrà inizio dai suoi vertici. Ora, la parola apostasia è stata definita per la prima volta da San Paolo in riferimento al mistero dell'iniquità, cioè l'errore che porterà alla grande apostasia. Dopo che gli apostoli ebbero predicato agli ebrei i quali respinsero il Vangelo, essi si recarrano dalle genti di tutto il mondo, ma ad un certo punto anche il tempo dei gentili finirà. A causa del grande abbandono della fede, a causa della grande apostasia, e il messaggio di Fatima parla proprio di apostasia. Da dove comincerà? Dai vertici della Chiesa, dai suoi livelli più alti. Nella sua parafrasi del terzo segreto, il cardinale Alfredo Ottaviani affermò la stessa cosa, cioè che Satana penetrerà ai più alti livelli della Chiesa. Il cardinale Silvio Oddi disse anch'egli la stessa cosa in merito al terzo segreto di Fatima. Il terzo segreto di Fatima è l'insegnamento di qualcosa di preciso in applicazione alla dottrina delle Sacre Scritture. Ricordate Suor Lucia di Fatima quando parlava del terzo segreto dicendo che i suoi contenuti si potevano leggere nell'Apocalisse, capitolo 8, versetto 13, è un passo in cui si parla dell'allontanamento dalla fede cattolica e dall'abbraccio della falsa religione. L'apostasia è iniziata con il Concilio Vaticano II, ma è stato solo il suo inizio, non certo la sua consumazione, non si era ancora materializzata interamente allora, ma il primo allontanamento dalla verità nella menzogna, lontano dalla vera religione per entrare nella falsa religione, ha avuto inizio al Concilio Vaticano II. Prendiamo ad esempio le dottrine insegnate in questi tre documenti. Il decreto sull'ecumenismo, Unitatis Redintegratio, il decreto sulla libertà religiosa, dignitatis umana e il decreto sulle religioni non cristiane, nostra etate. Contrariamente a ciò che aveva insegnato la tradizione perenne della Chiesa Cattolica, cioè che esiste una sola vera religione, un'unica fede, un unico Dio è quindi un'unica vera religione e pertanto tutte le altre sono false, il Vaticano II, senza contraddire direttamente quell'insegnamento, ha legittimato le altre false religioni, affermando che c'è del bene in esse. Ma poi è andato oltre, soprattutto sull'ecumenismo e la libertà religiosa, come ho spiegato dettagliatamente nel mio libro Il suicidio di alterare la fede nella liturgia. Le parole del Concilio Vaticano II in tali documenti sono diametralmente opposte agli insegnamenti definiti infallibilmente dalla Chiesa Cattolica e quindi sono propriamente detti eretici. Intendo i documenti sulla libertà religiosa e l'ecumenismo, ma il risultato di tali errori è stato quello di legittimare le religioni non cattoliche e considerarle come paritarie alla Chiesa Cattolica, la quale continuerebbe ad avere la pienezza della verità, ma le altre religioni sarebbero anch'esse valide per ottenere la salvezza. È una dottrina assolutamente contraria praticamente ad ogni singola delle Sacre Scritture, sia dell'Antico come del Nuovo Testamento. Possiamo quindi ben dire che il Concilio Vaticano II abbia inaugurato una nuova religione, una falsa, nuova religione, che si oppone a quella cattolica. Possono sembrare parole forti, ma possiamo dimostrarlo facilmente. Prendete il messale di Paolo VI, ad esempio, nella liturgia del Venerdì Santo. C'è una preghiera che si può leggere nell'originale in latino. La Chiesa conciliare invoca Dio affinché gli ebrei continuino nella loro servanza della loro alleanza. Ora, nella teologia ebraica, quando si parla di alleanza, ci si riferisce in modo specifico e correttamente all'alleanza di Mosè. Durante la prima domenica di Pentecoste, San Pietro disse a tutti gli ebrei che dovevano abbracciare la nuova fede cattolica e non far più parte della generazione perversa, perché ormai vi era una nuova ed eterna alleanza fondata sul sangue di Gesù Cristo. San Paolo ci insegna che l'alleanza, in particolare quella mosaica, ovvero quella mediata da Mosè sul monte Sinai, era ormai sostituita dalla nuova alleanza. In altre parole, quella antica era stata resa nulla da nostro Signore Gesù Cristo. San Paolo spiega le parole del profeta Geremia, il quale aveva predetto che l'antica alleanza sarebbe stata invalidata ed una nuova alleanza sarebbe stata offerta al popolo di Dio. Questa nuova alleanza avrebbe reso desueta la vecchia sostituendola. Ciò che è vecchio decade e finisce e viene rimpiazzato da ciò che è nuovo. Queste sono le parole usate dall'Apostolo Paolo e si riferiscono specificatamente all'alleanza di Mosè. Quest'alleanza è ormai decaduta, solo con l'alleanza viene rimpiazzata, ed è l'antica alleanza degli ebrei, cioè il patto che è alla base della religione ebraica. Ora, il motivo per cui gli ebrei fino ad oggi continuano a giustificare la loro religione è proprio quel patto. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, anche se dovremmo definirlo il Catechismo della Chiesa Conciliare, promulgato da Giovanni Paolo II, ed edito sotto l'autorità del prefetto della congregazione per la dottrina della fede, il cardinale Josef Ratzinger, afferma che l'antica alleanza non è mai stata revocata. Nel 1981, Papa Giovanni Paolo II si recò alla sinagoga ebraica a Magonza e gli disse che l'antica alleanza non era mai stata revocata. E adesso il Papa che si fa cambiare è George, George Bergoglio, un Papa che non ama essere chiamato Papa, direi a buona ragione, e che preferisce chiamarsi Vescovo di Roma o addirittura Padre Bergoglio. Dicevo, questo Papa nel suo documento Evangelii Gaudium si spinge fino a dire che l'alleanza e il patto ebraico, il patto che Dio aveva stretto con gli ebrei, non è mai stato revocato. Come ho già sottolineato, tutto ciò è in contrasto con le parole e l'insegnamento espliciti nelle Sacre Scritture. Lo stesso avviene con l'insegnamento degli antichi padri della Chiesa, i quali, all'unanimità, hanno insegnato che quando si parla di antica alleanza, questo termine si riferisce specificatamente all'alleanza di Mosè, non a qualche altra cosa. Questo insegnamento unanime dei padri della Chiesa, questa interpretazione unanime delle Sacre Scritture, che è stata ribadita e confermata dal Concilio di Trento e dal Concilio Vaticano I, è pertanto un'interpretazione in cui dobbiamo credere con fede divina e cattolica. Ma perché i padri della Chiesa erano così unanimi nella loro interpretazione delle scritture? Perché fu San Paolo ad essere assai esplicito al riguardo. L'alleanza mosaica è l'antica alleanza ed essa è ormai defunta e stata annullata dall'avvenuta di Nostro Signore. Che cos'è che non è chiaro a Padre Bergoglio della parola annullata? Perché dice che il patto non è mai stato revocato? Dopo l'interpretazione unanime dei padri della Chiesa c'è poi il Concilio di Firenze che ha definito solennemente che con l'avvenuta di Cristo la vecchia alleanza è cessata e conclusa. E nemmeno questo è sufficientemente chiaro. Allora c'è l'enciclica di Papa Benedetto XIV, a quo primum, o era la ex quo, sono due encicliche dal nome molto simile, a volte le confondo se non erro, era ex quo primum, uno da questi ad ogni modo che si occupa in modo specifico dell'antica alleanza. Ecco, in quella enciclica il Papa insegna con autorevolezza, citando il Concilio di Firenze, che l'antica alleanza è abrogata, è abolita, è revocata. Papa Benedetto XIV è noto per essere stato uno tra i più dotti papi della storia e questo suo insegnamento è molto chiaro e autorevole, basandosi comunque sulla solenne definizione del Concilio di Firenze, che a sua volta si fondava sull'insegnamento unanime dei padri, anch'esso fondato sulle parole esplicite di San Paolo. Più chiaro di così. La Chiesa Cattolica ha reso articolo di fede il fatto che l'antica alleanza è stata revocata. La nuova religione del Vaticano II tuttavia insegna che il vecchio patto non è stato revocato e che gli ebrei possono continuare nella loro osservanza dell'antica alleanza. C'è poi la preghiera del messale montignano, il messale di Papa Paolo VI, nella quale si chiede a Dio, usando una preghiera, che non mi pento di definire blasfema, di continuare ad osservare la loro alleanza. Ma perché gli ebrei osservano quell'alleanza? Proprio perché essi negano Gesù Cristo e non ne accettano la nuova alleanza. La Chiesa Conciliare, nel suo ecumenismo più sfrenato, arriva a pregare per gli ebrei affinché continuano nella loro osservanza dell'antica alleanza. Ma tutto bene, continuate pure, anzi, che gli si conceda la grazia di continuare nella loro osservanza di tale alleanza. Perché? Perché questa nuova religione ecumenica e postconciliare sostiene che gli ebrei possono salvarsi grazie all'osservanza dell'antica alleanza, quella alleanza che era stata annullata da Gesù Cristo e che secondo gli insegnamento cattolico non ha più senso di esistere e i suoi sacramenti non conferiscono alcuna grazia. La dottrina cattolica è chiarissima sull'argomento. C'è un'unica Chiesa valida nella storia di tutta l'umanità una sola Chiesa, un'unica vera religione. Gesù Cristo non ha istituito una nuova religione quando si fece uomo. Gli disse infatti, non sono venuto ad abolire la legge ma per dare compimento ad essa. Egli non è giunto come distruttore, il Signore non è venuto a distruggere. Se fosse stato un distruttore sarebbe venuto ad abolire il patto di Mosè e a lasciarlo distrutto. Invece egli ha adempiuto a quel patto. Mosè infatti aveva predetto la venuta di Cristo e il Signore vostro Dio vi farà sorgere un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli. Voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. Gesù Cristo nel suo compimento dell'antica alleanza ha portato quest'ultimo al suo completamento, alla sua consumazione finale inaugurando la nuova ed eterna alleanza basata sul suo sangue con lo spargimento del suo sangue sulla croce che porta alla salvezza di tutta l'umanità. La salvezza attraverso lo spargimento del sangue di colui che è l'agnello immacolato di Dio che toglie il peccato del mondo. Così nostro Signore Gesù Cristo non ha affatto abolito la legge e gli ha adempiuto ad essa. E nella sua realizzazione ci ha dato una legge più perfetta. Tale legge perfetta rimarrà in auge fino alla fine dei tempi, quando egli tornerà per giudicare i vivi e i morti. Esiste un'unica religione ed un'unica chiesa fin dall'inizio dei tempi. Questo è l'insegnamento di Papa San Gregorio Magno e cioè che sin dai tempi di Abele fino all'ultimo degli eletti, prima della venuta di Cristo, è sempre stata un'unica vera religione, un'unica vera chiesa e non me ne sono altre. E avendo questo insegnamento bene in mente che dobbiamo leggere ogni singola pagina del Vecchio Testamento, le maledizioni divine contro tutte le altre religioni e divinità, il modo in cui Dio manifesta la sua ira contro tutte quelle false religioni, anche gli Apostoli la pensavano alla stessa maniera. Gli Apostoli, i padri, i dottori della Chiesa e i Papi nel corso dei secoli hanno insegnato la stessa cosa in modo unanime. Ma tutto questo è venuto meno con il Concilio Vaticano II, che ha introdotto una nuova dottrina, una nuova dottrina che proviene dall'antico errore dell'ognosticismo che aveva afflitto la Chiesa in epoca proto-cristiana, la Chiesa dei tempi antichi. Questo errore proviene dal paganesimo, la sua origine insita nel paganesimo, perché in esso, a differenza della religione cattolica alla cui base vi è la fede, nel paganesimo non v'è bisogno di fede, la semplice osservanza è tutto ciò che serve, osservanza e ossequio. Ecco, tutto ciò che è necessario per la salvezza, secondo il paganesimo, e quindi su questa base tutte le religioni sono conciliabili tra loro e possono essere messe insieme. Il loro insegnamento è che vi sia stata una rivelazione originale, ma che essa si è dispersa in tutto il mondo, attraverso tutte le tribù e le nazioni, e che se vogliamo avere una religione veramente unita, veramente di Dio, allora dovremmo unire tutte le religioni e tutte le tradizioni assieme, riunendo quello che è stato disperso in principio. Questo è il grande errore, l'essenza stessa del mistero dell'iniquità annunciato da San Paolo. Perché la verità delle Sacre Scritture è esattamente l'opposto di questo principio. Alcune vestigia della verità sono state disperse nelle varie razioni del mondo, ma la vera religione e la vera fede sono state preservate dai giorni di Abele, sino all'epoca degli Apostoli, e da allora, come ci è stato insegnato da San Luigi di Montfort, fino al giorno dell'ultimo degli eletti, come insegnato anche da Papa San Gregorio Magno, un'unica religione che rimarrà sempre ancorata all'unica vera fede, e solo in essa, solo in quella chiesa e solo in quella religione la vera fede potrà essere trovata. È per questo che il Concilio Vaticano I, nella sua solenne professione di fede, professava che non v'è alcuna salvezza al di fuori della fede cattolica, perché essa costituisce quel corpo di verità che ci unisce a Dio e che è alla base della nostra religione. Tutto il resto è vanità delle vanità. Questo è ciò su cui la Madonna di Fatima è venuta a metterci in guardia contro questa operazione dell'errore che si sarebbe scatenata dopo un concilio malvagio, che sappiamo storicamente essere il concilio Vaticano II. Questo è il contenuto del terzo segreto di Fatima. Non vi è alcuna defezione nella Chiesa in sé per sé, non si parla di defezione. Sant'Atanasio disse che, anche se tutti i fedeli di Cristo fossero ridotti ad un pugno di persone, vi sarebbe sempre e comunque una vera Chiesa di Gesù Cristo. A colui che viene eletto Papa, ed è apparentemente tale, ma che in realtà è senza fede, cioè un infedele totale, a lui si applicano le parole di Papa Innocenzo III. Egli deve essere gettato via e calpestato dagli uomini. Costui è condannato dalle sue stesse parole. Prima di tutto, questo Papa afferma che il Dio dei cristiani perdona coloro che non credono e che non cercano la fede. La misericordia di Dio non avrebbe limiti se chi chiede pietà lo fa in contrizione e con cuore sincero. Quindi il problema per chi non crede in Dio è solo quello di obbedire alla propria coscienza. Ora, questo è un insegnamento assurdo. Prima di tutto, se non si crede in Dio, non si affede, come puoi andare a chiedere misericordia e essere contrito con cuore sincero se non credi in Dio? Questa è l'assurdità del pensiero dell'uomo. In questo caso le parole chiave da notare sono coloro che non credono e che non cercano la fede. Queste sono le parole di Giorgio Bergoglio, ma Dio li perdona? Bergoglio dice che la misericordia di Dio non ha limiti. Il problema, per chi non crede in Dio, è solo quello di obbedire alla propria coscienza. La bontà o la malvagità del nostro comportamento dipendono da questa decisione. Così, la bontà o la malizia del nostro comportamento non dipendono dal fatto che si violi o meno la legge di Dio se si obbedisca alle sue leggi, che si faccia ciò che è oggettivamente giusto o oggettivamente sbagliato. No. Secondo Giorgio Bergoglio, la bontà o la malvagità del nostro comportamento dipende dalla nostra decisione di obbedire o meno alla nostra coscienza. La legge di Dio non conta più. La salvezza non dipende più dall'obbedienza alla legge di Dio. Dipende solo dall'obbedienza alla nostra coscienza. Indipendentemente dal fatto che la nostra coscienza sia in accordo con la legge di Dio oppure no, questo non importa più. Bergoglio afferma con inequivocabile chiarezza che una persona priva di fede può ottenere il perdono di Dio obbedendo alla propria coscienza. Per Bergoglio la coscienza è quindi autonoma. E allora che dire dei comandamenti di Dio? Tu farai, tu non farai. Purtroppo i contenuti dei comandamenti divini non si applicano alla religione di George Bergoglio. È sufficiente fare quello che pensiamo sia giusto ed evitare ciò che pensiamo sia sbagliato. Anche se non credi in Dio, fintanto che pensi di fare il giusto, sarai salvato e i tuoi peccati saranno perdonati. L'economia della salvezza, secondo Bergoglio, ci dispensa completamente da un qualsiasi bisogno di fede. Non c'è bisogno di alcun tipo di fede nella religione di Bergoglio. Nessuno può dire alla tua coscienza cosa deve o non deve fare. Fai quello che pensi sia giusto, evita ciò che pensi sia sbagliato. Non hai nemmeno bisogno di credere in Dio, basta fare quel che pensi sia giusto. Questa è la religione di Bergoglio e quanto di più lontano dal cristianesimo vi possa essere come il cielo lo è dall'inferno. La religione di Bergoglio non è il cattolicesimo, è una religione massonica. Si la massoneria ottenne tale dottrina dall'ognosticismo, il quale a sua volta attrasse la propria dottrina dall'antico paganesimo. È per questo che li chiamavano antichi misteri. Sono gli antichi misteri del paganesimo. Il suo credo è sostanzialmente identico a quella del libero pensatore illuminista e ateo Lord Shaftesbury, nato nel 1671 e morto nel 1713. Gli articoli attinenti al credo religioso di Shaftesbury sono pochi e semplici, ma scritti con una convinzione ed un entusiasmo incredibili. Permettetemi di riassumere brevemente questo credo come una fede in un solo Dio, il cui attributo più caratteristico è la benevolenza universale. Il governo morale dell'universo e del futuro stato dell'uomo che sopperiscono all'imperfezione e riparano le diseguaglianze della vita attuale sono parole prese direttamente da Wikipedia. Una volta avevo con me la formulazione completa con le parole usate dallo stesso Shaftesbury, ma si trattava di due volumi della monumentale opera di padre Cornelio Fabro, introduzione all'ateismo moderno. Purtroppo i miei libri sono finiti da qualche parte in una biblioteca nelle Filippine e non li ho più con me. Tuttavia, questo riassume concisamente la dottrina di Shaftesbury. La sua dottrina morale è quella del senso morale e il principio di base del senso morale è che la distinzione tra giusto e sbagliato è insita nella natura umana. Tuttavia, la moralità è distinta dalla teologia. Qui arriviamo al cuore della dottrina di Bergoglio. La morale si distingue dalla teologia. Un paio di settimane fa, il cardinale Robert Sarra ha sottolineato che tutto questo è eresia. Ha avvertito Bergoglio che la Chiesa d'Africa non accetterà questo suo errore. Ha detto che si tratta di un'eresia che non si può prendere la dottrina del Magistero della Chiesa e metterla in una scatoletta per poi far tutt'altro nella pratica pastorale della Chiesa. Eppure, questa è la dottrina di Shaftesbury, che poi è anche la dottrina di George Bergoglio. La moralità si distingue dalla teologia e le qualità morali di un'azione sono determinate a prescindere dalla volontà di Dio. Quando George Bergoglio se ne è uscito con questo sfogo di infedeltà totale e di mancanza di fede, ciò costituisce la prova provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, che costui non ha assolutamente fede. Coloro che difendano ciecamente la Chiesa del Vaticano II, affermando che in realtà lo stiamo citando erroneamente o che sia stato scalpare ad aver manipolato le sue parole per indicare qualcosa di diverso da quello che realmente voleva dire il Papa, dicono solo un mucchio di sciocchezze. Prima del suo arrivo in Vaticano, e prima ancora di farsi chiamare Francesco, come arcivescovo di Buenos Aires, scrisse a quattro mani un libro, un rabbino di nome Scorca, e in quel libro dice esattamente la stessa cosa. Cerchiamo quindi di non illuderci. Non è stato l'ateo Scalfari ad aver travisato il pensiero di Bergoglio. È proprio così che la pensa il Papa. Si tratta dell'essenza stessa di apostasia, cioè la mancanza di fede più assoluta. Stiamo parlando di un uomo assolutamente senza fede, che predica una religione senza fede. Ora, siamo in grado di capire ciò di cui la Madonna ci ha parlato del Terzo Segreto, la cui essenza è stata ricordata dal Cardinale Ciappi, e cioè che la grande apostasia nella Chiesa avrà inizio dal suo vertice. Come ho spiegato già molte altre volte, infatti, Bergoglio non è l'unico uomo ad indossare una tallare bianca in Vaticano. Un'analisi critica molto incisiva sulla rinuncia di Papa Benedetto XVI è stata pubblicata dalla rivista teologica di Lugano, scritta dal professor di diritto canonico Stefano Violi, il quale ha analizzato parola per parola il documento in latino della rinuncia al ministero Petrino da parte di Benedetto XVI, nonché la sua ultima odienza quando Benedetto spiegò in italiano il significato e le basi per comprendere la natura del suo atto. È chiaro che Papa Benedetto credeva di poter rinunciare all'esercizio attivo del ministero Petrino, mantenendo quindi l'ufficio papale senza cessare di essere ancora successore di Pietro. Riteneva di poter rinunciare alla potestà di governo e consegnarla ad un suo successore, ma questo è impossibile. Un tale inquisito era stato già effettivamente risolto sin dal 1610, non è stato nemmeno più preso in esame da quando la questione dell'infallibilità papale è stata discussa. Quell'anno un grande teologo, il più celebre della sua epoca, proveniente dal cosiddetto Collegio di San Tommaso, che poi sarebbe diventata la Pontificia Università dell'Angelicum, dove abbiamo studiato sia io che Padre Gruner, dicevo il teologo più celebre del suo tempo, che ha scritto specificatamente su questa questione, Padre Domenico temo di non ricordare più il suo cognome, ma ad ogni modo scrisse nel 1610 che l'ufficio Petrino è indivisibile tra le persone. Solo un uomo può possedere il carisma Petrino, mentre sappiamo ad esempio che il Papa può togliere ad un arcivescovo della diocesi la sua potestà di governo per darla ad un coauditore, che avrà il diritto di successione. Quell'uomo rimane arcivescovo di quella diocesi, ma non avrà più alcun potere di governare, perché quest'ultimo è stato dato al coauditore, che diventa pertanto il suo successore. Questo è essenzialmente ciò che Papa Benedetto ha avuto in mente sin dall'inizio, ma con il papato. Non si può fare con il papato in quanto il ministero Petrino, il carisma singolare del vicario di Cristo in terra, il potere di giurisdizione e di infallibilità dato da Gesù a San Pietro e i suoi successori, non può essere concesso contemporaneamente a due successori, a due uomini contemporaneamente, ma solo e soltanto a uno. Questo è il motivo per cui la sua rinuncia è nulla. Che lo accetti o meno, che ci creda o meno, Benedetto insiste sul fatto che in qualche modo è ancora Papa. Papa, tuttavia, allo stesso tempo, afferma di non esserlo. Ebbene, non si possono avere entrambe le cose, o lui è l'unico Papa o non lo è. Anche Papa Bergoglio, di ritorno dal Brasile, ha detto che ci sono stati due papi in passato, cioè ha riconosciuto questa realtà di due papi che convivono nello stesso momento. Purtroppo tutto ciò sta portando a quella che diventerà la più grande divisione della Chiesa, il suo più grande scisma. Anzi, più di uno scisma, perché l'uomo che proclama l'apostasia sta annunciando una nuova religione al tempo stesso, una religione totalmente priva di fede. Sto parlando della religione di un uomo che si fa chiamare Francesco George Bergoglio. Questo è stato predetto dalla Madonna di Fatima nel Terzo Segreto, l'arrivo di un uomo che sembrerà essere il Papa, ma che costituirà la punta di diamante dell'apostasia. Ecco perché il Vescovo di Fatima aveva messo in guardia sul fatto che il segreto si riferisce alla perdita della fede. Esso si riferisce alla nostra fede, non parla di missili o di guerre, non parla di realtà geopolitiche, ma della perdita di fede. E questo sta accadendo adesso, sotto i nostri occhi. La Madonna tuttavia triunferà, la nostra fede non può essere distrutta, né possono esserlo il Papato e la Chiesa Cattolica. Certo, esiste una nuova Chiesa, una nuova religione che minacciano di distruggerla, anche se questo non potrà mai avvenire. San Vincenzo di Lerino ha messo in guardia contro il giorno in cui sembrerà che tutta la Chiesa sia stata avvelenata da una nuova eresia, ma come dovranno comportarsi i cattolici in questo caso, attenendosi alla tradizione che non può essere ingannata da qualsiasi novità menzognera, di oggi introdotta dagli pseudo-insegnamenti del Vaticano II e oggi messa in pratica dalla nuova religione di George Bergoglio. Non stiamo parlando della defezione della Chiesa Cattolica, ma dell'esodo di massa di tanti apostati che la stanno abbandonando. E sono proprio coloro come noi che rimangono indietro e si attengono alla religione dell'antichità che, come diceva Sant'Atanasio, sono la vera Chiesa di Gesù Cristo. Il cuore immacolato di Maria trionferà. San Vincenzo di Larins ha predetto perché vide questo insegnamento nelle Sacre Scritture. Tutta questa idea fondamentalista e superficiale della Chiesa conciliare, secondo cui tutto ciò non può accadere perché costituirebbe una defezione del papato e quindi della Chiesa, è assolutamente falsa. È stato predetto nelle scritture, lo hanno detto San Paolo e Nostro Signore Gesù Cristo, il quale affermò che se fosse possibile persino gli eletti verranno ingannati. Cerchiamo di ascoltare la voce della nostra Santissima Madre di Fatima e cerchiamo di esserle fedeli perché solo così non verremo ingannati e portati fuori dalle mani salvifiche di Gesù Cristo nostro Signore. Grazie.